manca un livello per l'editore dopo appena c'era appena c'era lo mettiamo doveva fare il mio deltaplan ma che ho comprato per niente 500 bucks di gente io sono troppo alto porche trove troppo alto negozi non so se ci riesco a dire sto con il negozio sono io è che questa cassa faccio un muro che è un pompa anche io ho un pompa è un amica gioco bisogna prendere andiamo alla casa di fronte secondo me qua ci ammazzano tutti i pavetti sta scappando quello andiamo nella casa e stiamo sotto si lascia lo so è che si lascia si lascia scappando orca droga fai nei scudini fai la cazzo fai la cazzo mi cazzo mi cazzo stiamo pushando una non ha vita una non ha vita un'altra cazzo non so che cazzo spaccati spaccati uno non ha proprio vita che cazzo spaccati 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 Stai da via! Stai da via! Stai! vado a tappanculo tutti i bastardi 3 5 6 6 8 9 10 12 13 16 16 17 19 19 che cazzo guarda scala potente guarda andiamo andiamo guarda qua girati guarda guarda cazzo a te ora dove ho visto ho venuto da dove no a te ora guarda sono in in due ah si ce l'ho visto ci dovremmo pushare perché non hanno vita li pushamo si si guarda 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 via lì cazzo non l'ho visto guarda via lì cazzo guarda via lì cazzo guarda via lì cazzo Oh! Oh, bubbi si ha fatto. Come on, eh? Non, 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 non. Ok. Bella! Ok, trovo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.